City Report Cari amici, una nuova puntata con City Report dove vi portiamo in questo gennaio 2021 di lockdown qualche immagine ve lo dirà vi dirò come riferimento che c'è Fran Diamond ma in questo caso non ha fatto strada troppa da casa dimmi qualcosa stiamo visitando intorno a Baggio Baggio ed intorni, diciamo così seguiteci insieme alle immagini di Paolo Rusconi e di Fran Diamond con la bodycam e andiamo avanti